Ci sembra assurdo che il problema dei rifiuti a Roma sia ancora trattato con provvedimenti in extremis piuttosto che risolto con seri progetti di riciclaggio, come avviene in tutte le più grandi capitali europee. Ci chiediamo cosa abbia fatto il sindaco alemanno in questi cinque anni per ridursi all'ultimo minuto e senza una valida soluzione, se non arrivare a un livello minimo di differenziata rispetto al previsto, e sia ridotta all'ultimo minuto non solo per quanto riguarda la questione Malagrotta, ma anche per quanto riguarda la ridicola sfilata di 46 delibere sulla cementificazione, protagoniste degli scorsi due giorni di Consiglio Comunale. Marcello De Vito, candidato portavoce e sindaco per la città di Roma del Movimento 5 Stelle.